Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Volevo fare una battuta nell'intro, ovvero sopravvivenza anche nella vita reale Visto che non l'ho pubblicato per un po' perché ho un'influenza che mi tartassa di starnuti, tosse Soprattutto la mattina non riesco praticamente a fare niente ed è il motivo per cui non stavo facendo video Ma effettivamente questa battuta l'avevo già fatta Quindi, da quanto mi sta durando questa influenza? Ma basta! Fatto sta che ragazzi siamo qui e vi devo far vedere una cosa Perché come sapete la serie di sopravvivenza va avanti tramite video ma anche lavori fatti in live E ovviamente vi faccio vedere tutto quello che faccio e addirittura vi spiego anche alcune cose che secondo me sono interessanti Ad esempio ultimamente ho lavorato alla zona d'accesso all'area del Warden Che sarà una sorta di laboratorio segreto e mi sa che in video ve la devo ancora mostrare In particolar modo oggi vi farò vedere un circuito che ho realizzato e che mi piace davvero un sacco Mentre scendiamo vi ricordo che a tal proposito sono in live anche stasera alle 20.30 Qui sulla survival costruiamo, facciamo cose insieme, chiacchieriamo e anche stasera ci sarà in palio un VIP di una settimana Che verrà dato a una persona random tra chi donerà almeno una sub alla community Se vi interessa vi aspetto sempre alle 20.30 Ed eccoci qui, il Warden sta già rognando lo sento, comunque questa è la zona d'ingresso Ricordate che stavo facendo una custom map gigantesca? Ecco, questo è il risultato, una mappa che è bianca ma che ha il bordino rosso Peccato perché l'area di buio qui cambia il colore Ma l'idea era di avere una sorta di blocco custom sulla parete Che ricordasse un ospedale, un laboratorio segreto, cose del genere Lo stile è molto semplice, devo ancora decorare magari con qualche pianta, qualche dettaglio Qui abbiamo una telecamera che ci guarda E i led nel soffitto che sfruttano anche le frog light Perché volevo usarle da qualche parte Questa è l'anticamera del laboratorio Ma da questa parte si entra in un'area che è ancora in corso di lavorazione Anche perché sto farmando il quarzo, me ne servirà davvero un botto E questo corridoio porterà a due stanze Una, che non si accederà da qui logicamente, è quella del beacon E l'altra farà scendere e porterà direttamente dal Warden Da questa parte E ora però non disturbiamolo, sennò ci lancia i raggi fotonici incredibili Per rendere tutto più figo voglio fare un effetto Ovvero, qui ci saranno pochissime luci Qua dovrei anche chiudere Ma togliamo questa torcia E considerate che Allora facciamo così al volo Qui sarà chiuso L'idea è di avere una luce intermittenza all'infondo Che dia l'idea di un corridoio abbandonato Quindi una luce che non funziona dall'idea di creepy Di laboratorio inquietante E per intenderci funzionerà così Questa è l'idea che ho sviluppato Buio E poi due lampeggi Quindi una luce rotta Che ogni tanto lampeggia E ci dà quest'atmosfera davvero molto creepy Qui ancora ci sarà un sacco da fare Ma intanto vi voglio far vedere Come funziona questo circuito Che ho ideato io stesso Magari ci sarà una versione più efficiente in giro Ma sappiate che questo è Made in Blaze Quindi andiamo subito a vedere Per fare questo circuito Ci serviranno delle cose molto semplici Ma come al solito dobbiamo depredare La zona della redstone Ovvero ci servono due pistoni appiccicosi Ci servono due observer Ci servono svariati repeater Ma diciamo che ne prendiamo Otto in questo caso Mi serve la redstone Ovviamente una lampada da accendere Che sarà questa qui Blocco di redstone Redstone stessa E teoricamente Mi manca poi un blocco d'appoggio E una leva Quindi niente di troppo incredibile Prendiamo la redstone Quindi il blocco d'appoggio Potrebbe essere Boh a muzzo questo qui Tanto non ci interessa E ci serve una leva Quindi bastoncino E blocco di cobblestone Eccoci qui Leva fatta Allora se non ho dimenticato nulla E di solito dimentico sempre qualcosa Considerate Dovremmo esserci Quindi saliamo Vediamo se c'è da dormire E poi vi faccio vedere Questo circuito all'aperto Dato che giù L'ho già incastrato Nel soffitto e tutto E quindi Sarebbe un po' difficile mostrarvelo Ok E' giorno Possiamo andare Ma Perché non ci sono Le nuvole Ma ragazzi Ogni volta me le toglie il gioco Ma che Questa ormai è diventata L'isola degli esperimenti È un porcile Quest'isola Porretta Direi che ci possiamo mettere qui Per creare il nostro circuito Quindi l'obiettivo del circuito E' avere una luce Che lampeggia In maniera ciclica E con una certa intermittenza Perché deve dare l'idea Di essere inquietante Quindi mettiamo la nostra luce Ad esempio qui Per creare una luce Intermittente La cosa in realtà È molto semplice Quindi Creiamo un circuito Di questo tipo Prendo i miei repeater Abbiamo la nostra Redstone tattica E possiamo creare Un circuito Con gli otto repeater Quattro in questa direzione Quattro nella direzione opposta Colleghiamo alla fine Mettiamo il ritardo massimo Su tutti In modo da Avere una luce Che lampeggia Ma non troppo Ecco cosa mi mancava Una torcia di redstone Perché Devo attivare Il circuito Almeno per la prova Poi non ci serve In realtà dopo Però intanto Per adesso Ne prendo una Così vi faccio vedere Il test Per attivare Questo semplice circuito Metto e tolgo La torcia Come vedete Fa tutto un giro E ogni tanto Fa pulsare la luce Questa è la forma base Che a noi non piace Perché la pulsazione Intanto Non è molto bella Cioè Io vorrei avere Due pulsazioni E soprattutto Questo circuito Lo devo poter accendere E spegnere A mio piacimento Perché se lo lasciessi Sempre acceso È una fonte di lag È un circuito Che va all'infinito E questo non va bene Quindi andiamo a ritoccarlo Per prima cosa Mettiamo un observer Al posto di questo pezzo Di redstone Mettendo un observer Che punta alla redstone E ha l'output dietro Succede questo Che quando si accende Da un tick veloce E quando si spegne La redstone davanti Ne da un altro Quindi ora Abbiamo una lampada Che pulsa Molto più velocemente Che pulsa due volte E poi si spegne Due volte E poi si spegne Questo permette Di creare Un effetto Di lampadina Quasi bruciata Come lo vogliamo noi E di base Il circuito Così è fatto Se volete farlo semplice Questo è il metodo Ma se volete fare Una roba fatta bene Che si può anche spegnere Dobbiamo un attimo Trajardare Quindi innanzitutto Spegniamolo Effettivamente Togliamo tutto E andiamo a rimettere La redstone Senza far circolare Più il segnale Togliamo anche Un repeater Questo va via Ci servirà dopo E utilizziamo Il nostro blocco D'appoggio O blocco Può essere Anche un cobblestone Normalissima E lo mettiamo qui Dietro questo blocco Ci va Un pistone Appicicoso Questo pistone Sposterà Il blocco Dentro e fuori Il circuito Quindi che cosa succede Quando il blocco È spostato così Il circuito funziona Anche se non c'è Questo repeater Vi faccio vedere In maniera molto rapida Metto e tolgo La redstone Come vedete Il circuito gira Perché questo blocco Fa da tramite Alla redstone Anche sotto Il repeater di prima Ma se tolgo Questo blocco Il circuito Si spegne E quindi possiamo Attivare e spegnere Il circuito Anzi Lo possiamo spegnere Ma dobbiamo fare L'attivazione Qui c'è stato Un minimo di tryhard Ma alla fine La soluzione È molto semplice Per attivare E spegnere Il circuito Con una leva Dobbiamo fare Questo Prendiamo Un observer Lo mettiamo Contro il pistone In modo che Guardi Il pistone E ci mandi Un segnale Ogni volta Che il pistone Si attiva Quindi Quindi succede Quindi succede Che poi mettiamo L'altro repeater Qua dietro Con un ritardo Massimo Va benissimo Così Mettiamo Lo sticky piston Qui E il blocco Di redstone Qui Questa non ci serve Più Abbiamo già fatto Tutto il nostro circuito E andiamo subito A provarlo Succede Quindi che se tiro La leva Questo si mette In posizione E l'altro pistone In questo modo Manderà un tick Velocissimo Alla redstone Che va ad attivare Il circuito E ovviamente Non deve stare Lì fisso Perché sennò Resterà Permanentemente Attivo E non va bene Quindi facciamolo E avete visto Gli ha dato un micro tick Che attiva Il circuito Peraltro Vedete che Gli ha dato proprio Un impulso veloce Infatti si attiva Un repeater per volta Eccolo qui E il circuito va Quindi la luce Fa i suoi due rintocchi E poi si spegne Ora Se ritiro la leva Questo va a dare Un altro input Al circuito Ma non ci interessa Perché anche se va così Abbiamo tolto Il blocco di mezzo Quindi il circuito Non può più girare Questo input è inutile E abbiamo di fatto Spento il circuito E questo è il circuito Per fare le luci intermittenti Che ho utilizzato Nel corridoio di sotto Quindi ripeto Molto semplicemente Abbiamo una leva Che poi possiamo sistemare Dove vogliamo E questa leva Va ad attivare O a spegnere La mia luce intermittente Così abbiamo Questo effetto fighissimo Ma ad attivare Solo quando serve Altrimenti È spento E quindi è Più o meno Lag free Ora ovviamente Recuperiamo tutto Perché un giorno Quest'isola Non dovrà più avere E robe sparse Ma sarà Terraformata Ma ora ci facciamo qualcosa Ha avuto per anni Un circuito inutilizzato Sopra Questa povera isola Quindi si merita Un po' di amore Prima o poi E tutta quest'area A partire dai suoi Molteplici passaggi segreti Per passare qui sotto Per fare il mega corridoio Che scende Con la porta segreta E poi il laboratorio E l'area del warden Con l'effetto cielo stellato E il warden intrappolato Il bioma alieno Compone ormai tutto Un mega progetto Che sto facendo Da diverso tempo È tutto partito In piccole parti Ma questo progetto È gigantesco E serve a creare Una zona segreta Nella base In cui deteniamo Il warden A fine progetto Finalmente darò anche Un vero nome al warden Che ancora è chiamato Punto Quindi ha una name tag A caso Ma vi prometto Che quando sarà tutto finito Gli daremo anche un bel nome Nel mio caso La leva è qui Ma appena avrò definito Questa stanza La porterò giù Penso su una parete O su un tavolino Qualcosa di questo tipo In modo da avere La nostra luce A intermittenza E ragazzi Questo è tutto Stasera Non so se continueremo Questo progetto Decideremo con la chat Ma in caso Dovrò farmarmi Un botto di quarzo Per fare tutte le pareti Che sono un bel casino E poi Dovrò anche sistemare Il fatto delle mappe Perché insomma Tutte queste sono mappe singole Ed è abbastanza dispendioso Fare questo laboratorio Che sarà poi anche abbandonato Quindi pensate un po' voi Ma per questo video è tutto Ci vediamo stasera in live Alle 20.30 E domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti